Presidente, alvia una nuova stagione più che mai interessante con tante novità. Abbiamo deciso quest'anno di fare una presentazione in cui coinvolgiamo tutte le squadre della nostra società, quindi a partire chiaramente da quella che parteciperà al campionato di Series C Silver, a scendere l'Under 18, l'Under 16, l'Under 14, tutto il settore mini basket al completo e anche alla neonata squadra di promozione che è nata grazie alle velleità agonistiche di vecchi che non vogliono abbandonare l'agonismo e che hanno deciso di portare avanti questo nuovo progetto di una squadra in una categoria minore che coinvolge anche però i ragazzi del settore giovanile. Servia la stagione all'inizio di ottobre ma in realtà è il lavoro che dura un intero anno? Sì, assolutamente sì. Diciamo che il lavoro per chi sta dietro la scrivania di un'associazione sportiva finisce quasi a ottobre, nel senso che a quel punto comincia il lavoro degli allenatori, dei giocatori. Noi abbiamo lavorato quest'estate con tantissimo entusiasmo, abbiamo coinvolto nuove persone a livello di staff tecnico, a livello di giocatori, a livello anche di dirigenti. Stiamo cercando di riabbracciare persone che si sono un po' allontanate dalla palacanestro a Tolentino perché chiaramente l'intenzione è quella di ricreare tanto entusiasmo e un numero di appassionati sempre maggiore a questo sport. Un'associazione sportiva come quella del basket Tolentino che raccoglie un bel po' di iscritti è un'associazione che ha una sua storia? Sì, ti ringrazio che mi fai questo assist che poi con la palacanestro ci entra perfettamente. Sì, è un'associazione che ormai ha una certa età, è una società che ha 35, quasi 36 anni che coinvolge 150 se non 200 ragazzi più o meno giovani però noi vorremmo che crescesse ancora, vorremmo che altra gente si innamorasse di questo sport che è veramente bello e trascinante e vorremmo che invecchiando migliorassimo ulteriormente.